All'ospedale di Cristina di Palermo ieri si sono recati e sono rimasti per l'intera giornata il fratello e il datore di lavoro di Valide Mossa. Il 42enne di origini tunisine ha deceduto assieme alla moglie Zina Koschi di 44 anni nell'incidente avvenuto sabato mattina sulla fondovalle Sciacca Palermo all'altezza del bivio per Giacalone, costato la vita anche al palermitano Riccardo Parti. Sono andati a verificare le condizioni dei tre bambini della coppia residente a Ribera e a parlare con i medici che si stanno prendendo cura di loro. Le condizioni dei tre fratellini rimangono molto critiche, soprattutto quelle dei bambini di 6-8 anni. Il più piccolo di 4 anni che era stato sedato ieri mattina si è svegliato e allo zio ha ripetutamente chiesto notizie della mamma. Gli altri due sono in terapia intensiva. Subito dopo l'incidente sono arrivati in codice rosso all'ospedale dei bambini di Palermo. Il più grande è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico al cranio. Il fratellino di 6 anni è stato portato in sala operatoria per le diverse fratture riportate. Per entrambi la prognosi rimane riservata. Una tragedia immane quella di questi tre fratellini rimasti orfani e che solo pochi mesi fa erano arrivati a Ribera assieme alla madre per ricongiungersi con il papà che da diversi anni lavorava nella città grigentina in una cooperativa agricola che si occupa del confezionamento delle arance. Sabato scorso la famiglia era partita da Ribera. Valido Mussavre ebbe dovuto accompagnare moglie e figli al porto di Palermo per imbarcarsi sulla nave per Tunisi. Un breve rientro a casa per prendere le ultime cose e poi tornare a Ribera dove i bambini erano già stati iscritti a scuola. Il sinaco Matteo Ruvolo questa mattina ha incontrato lo zio dei bambini per manifestare il cordoglio della comunità ma soprattutto fornire aiuto e supporto. Si sta valutando la possibilità del ricongiungimento dell'uomo con la moglie e il figlioletto che vivono in Tunisia per farli arrivare al più presto a Ribera e poter così stare vicini ai bambini che sono ricoverati in ospedale assistiti con grande impegno e grandi premure dal personale sanitario ma che non possono contare su altri familiari se non lo zio. Le salme dei genitori sono ancora all'obitorio e potrebbero essere trasferite dopo le necessarie autorizzazioni direttamente a Tunisi. Pare sia stata questa la volontà manifestata dal fratello di Mossà. Il sinaco Matteo Ruvolo già ieri recependo la volontà della comunità riberese sconvolta per quanto è accaduto aveva annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali e ribadisce anche oggi che è in atto una gara di solidarietà e sostegno ai tre bambini.